Oltre a dover trovare una maggiore continuità e similità in attacco Pronti? Dico che stiamo proprio in studio della difesa Poi in attacco, l'attacco è una conseguenza di quello che è Dico che c'è un infortunio importante ma avremo modo di parlarne più avanti Intanto, chi mette il libero sotto e non mi aveva nessun contatto E' un'altra parte che abbiamo appena detto Da me è arrivato molto Ha avuto coraggio, si è preso lonti E' qui, attenzione, ma sciatemi Per trovare il basso, Gagelotti, gli angoli Troverò a favore Ma lo scoccio qui la stella Trova Gagelotti, per noi stavoli Graunas, per tutto è un'altra parte Bene, benza, sale in cielo Faisa di nasciato solo, non c'è aiuto Faisa di nasciato solo